Io detesto chiunque mi cerchi di sminuire il saluto della gente. Come aveva detto il compagno l'altro giorno mi preside. Dottore, figlio di una famiglia agiata, i suoi avi erano masoni, lui era mason pure, con dei problemi con i masoni, che bisognava di farsi un sacrificio come quello che si è fatto, ma di una coerenza enorme, una cosa sola. Nello Stadio Nazionale dice da lì mi faranno uccidere solo con i piedi davanti. Questo è lo che conta. L'hanno orsisto, si è suicidato, che se ne importa? Mi dispiace dirlo. La gente non ha mai governato per me. Lui è arrivato nel 51% del corpo elettorale. L'azienda non ha mai avuto il 51% del corpo elettorale. Lui è arrivato al 46% del corpo elettorale. Un dato solo e soprattutto del sabotaglio. Loro militarmente ci aiutano, continuano ad aiutarci, però non ci danno più i crediti per comprare i pezzi di ricambio, neanche per le macchine delle miniere. I commercianti chiudono i negozi e nascondono i prodotti di prima necessità. I camionisti tolgono i pezzi dei camion perché non siano funzionanti. I tecnici altamente qualificati delle miniere si resistono a lavorare. Molti lavoratori che avevano visto come si fanno le cose, si improvvisano tecnici e fanno andare la miniera lo stesso. Sostanzialmente si crea un problema enorme. Non possiamo tenere il ritmo di produttività che avevamo prima. E nel Club de Paris cala il prezzo del rame. Da 50 arriva a 10. Esempi sono questi. Avevamo 120 soldati che potevano andarsi a formare ogni anno alle scuole in Panama diventano 270. C'è una voglia di creare condizioni per chi è in Cile. Prima o poi si crea questo danno e si crea le condizioni perché i soldati facciano qualcosa e ci impediscano di andare avanti. E fanno molti tentativi, fanno sabotagli interni, si buttano i tralici della luce, si rompono gli acquedotti, si rompono gli oliodotti, i gasotti, tutto. Si buttano dei miglitos per le strade, i miglitos sono dei chiodi a tre punte che quando tu vai sui chiodi con quello lì la tua macchina non parte più, eccetera. Fanno un sacco di disastri, un sacco di disastri. Nonostante tutto, la gente stava con noi. Piano piano la gente stava con noi. Quando c'è il colpo di stato, poi, appaiono lo stesso giorno i negozi pieni di roba che prima non c'erano. Tanto è così che mia madre, che era anche lei molto a destra, seguiva tutto quello che diceva mio papà, mi dice, Lussi, ma che strano. Dice, quando prima del colpo di stato c'erano solo le uova, non c'erano i polli, invece tre giorni dopo era pieno di polli. Cioè, come sono cresciuti subito. Non dico migliaia, ma centinaia di murali fatti in quel periodo, è rimasto soltanto uno, che ho avuto anche la fortuna di partecipare, con un muralista italiano-cileno che si chiama Roberto Sartiammata. E lui ha chiesto di lavorare con il gruppo muralista che mi hanno regalato una parra. Io ho avuto la fortuna di dipingere con lui. Ti ricordo che questo muro era stato fatto in un muro creato e pagato da lui per tutto questo materiale. Guarda, questo mural è stato cancellato 16 volte. Ogni anno lo danno a mano. 29 luglio del 73, che è il giorno del tancazzo, che i carri armati di una caserma di carristi che ha 5 o 6 isolati del Palazzo del Governo escono per la strada e vanno a bloccare la moneta in un tentativo di colpo di Stato. È il primo tentativo serio di colpo di Stato che avviene nel periodo dell'ascente. Chi stava dietro manovrando tutta la situazione si rende conto chi era chi. Dentro delle forze armate chi erano gli ufficiali costituzionalisti che si ponevano il problema del rispetto alla Costituzione del 1925 e contro un eventuale colpo di Stato. E a questo punto chi sta facendo il movimento dietro il buratinaio dietro espostano a tutti i comandanti operativi delle forze armate e le mettono in lavori amministrativi. Le tolgono e mettono ufficiali di destra. Però Prat è ancora comandante delle forze armate che lui dice no rispetto alla Costituzione rispetto al Presidente della Repubblica eccetera eccetera avviene un secondo un secondo problema che è una provocazione che le fanno a Prat. Viaggiava di casa sua tutti i santi giorni a una determinata ora alle otto partiva di casa sua per essere in un ufficio alle otto e mezza faceva la stessa strada nella stessa macchina tutti i santi giorni senza scorta e con il suo autista che era un sotto ufficiale. Un giorno che va andando e nella strada si trova una manifestazione di donne che stanno urlando contro la mancanza di genere alimentari contro il governo contro i soldati che sono delle galline eccetera eccetera e allora sorprese queste donne che vedono ah vedono questo ufficiale dentro della macchina e cominciano a tirarle grano e mais cioè sei una gallina e a un certo momento Prat si trova in contraluce con una persona che sta facendo questo e vede la sagoma di un giovane o di un uomo esce dalla macchina con la pistola in mano appaiono 20 fotografi giornalisti a fare fotografie perché la persona che questa sagoma che lui vedeva era una donna e che lui sta praticamente quasi minacciandolo con la pistola alla sera Prat ha consegnato la sua dimissione di comandante in capo delle forze armate non era sostenibile da nessuna forma una situazione così un comandante non si poteva permettere una cagata di quella dimensione hanno un asso nella manica riescono a far approvare la legge del controllo delle armi perché in tutto questo rumore in tutto questo cancan che creano in Cile passa l'idea di che quelli di sinistra si stanno preparando per fare un autogolpe e quindi oppure per difendersi e che quindi avrebbero degli arsenali nelle fabbriche nelle scuole nell'industria nei fondi passati all'area sociale eccetera eccetera che avevamo occupato passa questa idea e la legge permette l'intervento dei militari senza un ordine dei giudici quindi era un periodo molto concitato noi dormivamo vestiti era molto comune eravamo molto giovani tra l'altro non avevamo noi nessuna preparazione armata si dice delle cose però guarda io penso che neanche il Mirker è il gruppo più a sinistra che ha cominciato ha tentato di fare qualche resistenza dopo e però non avevamo niente Cile è molto brutto quello che vedo è un paese a rivista a rivista già al massimo delle cose assurde ho visto un quartiere che c'era la macchina e il vicino compratto una macchina più grande di quella dell'altro vicino perché a lui mangia pane e cipolla per dimostrare questo è un rivismo racista io lo dico e sicuramente mi condanneranno mi diranno chissà che cosa sono ma io l'ho visto anche nei quartieri popolari secondo me è anche la colpa della società stessa che ci hanno inculcato fin da bambini che siamo meglio delle antipopule manifestazioni Pinochet era un leccaculo ci sono delle cose che raccontano tante persone che dicono che la gente le schifava gli atteggiamenti di Pinochet sì signor Presidente sì signor Presidente leccaculo per esempio se doveva uscire dall'ufficio la gente Pinochet mica quasi correva all'attaccapanno a prendere il capotto e a metterselo capito e la gente dice ma cazzo mi dà fastidio non lo sopporto più abbiamo avuto un sacco di errori noi di analisi dicevamo lavorer sempre l'italiato non so addirittura la questione indigena non veniva considerata e tantomeno le donne l'ecologia e tutta una serie di cose le avevamo imparate dopo dicevamo che il mondo era diviso e anche in Cile tra la borghesia e il proletariato quindi gli altri ufficiali erano dei borghesi tutti i soldati erano proletari e dovevano stare con noi se tratta compagni che i nostri dirigenti sindicali tomano questa parte come una parte prioritaria di loro che se conecti con i nostri di altre empresas che in i sindicati planteano a i nostri dirigenti la necessità di vincularsi con i nostri compagni di la altra quadra con i nostri compagni di più e così compagni compagni abbiamo construito questa forza popolare che è la base per avanzare che è la murale per detener gli intenti di la reazione la gente convoca a una manifestazione dicono che c'era più di un milione di persone in piazza e la gente in la piazza chiede due cose chiede chiudere il parlamento dove la gente non aveva la maggioranza la prima cosa e la seconda cosa armi armare al fuoco la gente ha detto compagni compagni tornate a casa il vostro presidente cura la democrazia e il governo popolare stasera bevetevi un bicchiere di vino alla mia salute e fate una buona notte quello lì è il momento più alto che è arrivata la mobilizzazione popolare nel Cile il corpo del Stato in Cile senza retornita il Salvatore viene caduto per le conquiste del governo salvatore perché avevamo toccato fin in fondo i grandi interessi internazionali c'erano queste cose assurde noi produciamo rame portavamo il rame negli Stati Uniti e noi compravamo fin il rame cosa succedeva che con queste politiche economiche che avevano a creare con le 40 misure di Salvatore Allende toccavamo gli interessi economici dei grandi gruppi della grande oligarchia dei grandi gruppi economici non è una casualità che se tu si va a vedere quello che ha pubblicato gli stessi statunitensi questa idea di Nixon appena Nixon e Kissinger una telefonata Nixon dice a Kissinger che questo pazzo che salva ora niente prima di essere eletto doveva cadere perché loro già vedevano in lui una minaccia e i loro interessi si conosce noi studiavamo una storia molto falsata io poco ho studiato bene la storia molto di più in Cile come tutto il mondo ci sono stati un sacco di colpi di Stato avevamo avuto Cile è nato nel 1810 quindi all'inizio poi negli anni 30 ci sono stati dei governi militari e quindi questa storia che noi non che Cile era diversa che le forze armate non era vera però noi ce la prendevamo questa cosa qua anzi dicevamo soldato amico e poi resta contigo soldato amico il popolo è con te così e però usiamo la la hierarchia delle forze armate era di destra erano i cali di guardia dell'orgesia degli antifondisti dei proprietari delle grandi industrie che cosa fare che cosa fare nel caso di un colpo di Stato lapidario che a chi beccano lo fucilano che cosa fare nel caso che ufficiali democratici dassero un colpo di Stato che cosa fare nel caso che gli ufficiali di sinistra delle forze armate dassero un colpo di Stato fucilassero tutti i generali e facessero un governo tipo quello che è stato il governo di Chavez dopo il primo tentativo del colpo di Stato che ha fatto non mi ricordo che anno 10-15 anni fa allora il nostro progetto era uscire verso la montagna verso le antie dalle zone in cui noi avevamo basso sociale l'esperienza dell'unia popolare è stata utilizzata da tanti diciamo da tanti tra virgolette e in particolar modo in Europa e in particolar modo in Italia c'è un signore che molti amano che ha preconizzato il compromesso storico a partire dall'esperienza dell'unia popolare dicendo fondamentalmente che per poter governare tranquilli non basta neanche il 51% ma il problema non è la percentuale di voti che hai per governare il problema è che cosa vuoi fare con quel 51% di voti di voti